Ho iniziato a tirare fuori quello che stavo tramando da molto tempo, ma che non riuscivo, cioè non prendevo il tempo di focalizzare e di ascoltare, cioè mi parlava come quello parlato da una parte e non lo ascoltavo, non c'è sempre tanto da fare e perché seguivo le mie vecchie cose, quando Franco mi ha detto devi lavorare su questo, è meglio che lavori su quest'altro, io lì ho capito che dovevo ascoltare la cucina che parlava, l'ho ascoltata, mi sono focalizzata su questo e ci ho preso gusto, mi sono diventata una matta, andava avanti per mesi, è stato un divertimento di più, una festa, poi ho dovuto smettere perché se no non saluto me di questi guanti, poi ci avevo fatto altre cose, il lockdown è finito, si riprende la vita normale e sono rimasti lì un bel po' d'idea, un anno forse, mi ho rifatti altri due ma fremevo perché si doveva concretizzare, dovevo tirare fuori questi lavori e non veniva mai il momento di farle, questo è il momento, siamo arrivata, è emozionale.